Aldo, ma insomma te che fai? Insegno letteratura giapponese alla statale. È uno. Direi che penso che ogni tanto il tuo mammusca è considerato un pesantone. Assolutamente no. No. Vi voglio bene. Non lo so parte più. Magico trio. Magico trio. Deve andare fuori dei coglioni. Adesso il professorino prende dieci linee, dieci pippi, come dite voi. Hai capito che robetta? Più bonus. Fanno tanto gli indipendenti, ma se me ne vado... Vado a mettermi quella cosa che mi ha regalato a Natale. Cosa è il bustino per la sciatica? Tisanina. Vai mammusca, con forza eh. Come sta? Bene. Bene. Eccomi. Amore. Ma stai chiestando bene con l'olce vita? Papaglia ha trovato lavoro in un cantiere. Sì perché? Si trasferisce qui a casa. Shimesus hai shonoccio. Ehi, e che fai? Beh sì, all'inizio non è stata facile con Peppe, però poi mi ci sono abituato. A difesa di Aldo anche Bruce è rimasto in casa fino a 35 anni. Non se l'ha dato via di casa 35 anni, è andato via perché i suoi genitori sono morti. Se non ero ancora lì. E' molto buono. E anche questa. E' un risotto da ingiustire. Bada. Quando arriva qua tu lo senti proprio il sapore sai? Eh sì, se sei ancora vivo. È un risotto che non è cognizione. Io tercero. Ciao. Grazie a tutti.